GF VIP, Luca Salatino e Soraya sono lasciati, in retroscena sul tradimento. Un messaggio condiviso nelle proprie storie Instagram per annunciare la fine dell'amore, Luca Salatino e Soraya si sono lasciati e... a comunicarlo a tutti i suoi follower, è stato proprio l'ex concorrente del grande fratello VIP. Le voci di una rottura circolavano da un po' di tempo e, a quanto pare, anche quelle di un presunto tradimento. In retroscena, Luca Salatino e Soraya, amore al capolinea, si sono lasciati per ufficializzare la storia d'amore arrivata al capolinea Luca Salatino usato le storie Instagram, dove è annunciato che lui e Soraya si sono lasciati. Ormai da qualche tempo le voci sulla conclusione del loro legame si erano fatte più insistenti fino alla conferma ufficiale. Tra me e Soraya è finita. Vi prego di rispettare questo momento. Vi voglio bene. Luca, ha scritto su Instagram. Pochissime parole che, però, non danno alcuna spiegazione sulle ragioni che hanno portato alla fine del loro legame che fino a poco tempo prima era parso così forte. Ma da qualche settimana i rumor su di loro si erano fatti più insistenti. Pare. Infatti, che abbiano passato le vacanze di Pasqua separati e poi, a questo, si è aggiunto anche il retroscena di un presunto tradimento. Luca Salatino e Soraya, il retroscena del presunto tradimento dietro alla fine della relazione tra Luca Salatino e Soraya e c'è un tradimento. In questi ultimi giorni, prima dell'arrivo della conferma da parte del diretto interessato, erano circolate voci che davano lei vicina a un altro uomo. L'esperta di gossip di Yanira Marzano ha infatti condiviso alcune delle segnalazioni che le sono arrivate. Dai due non sono arrivate conferme o smentite a riguardo e Soraya, dal canto suo. Non ha scritto nulla, limitandosi a continuare a condividere scatti di lavoro e di vita quotidiana. Senza però rivelare nulla della sua sfera più personale. Non si sa se il presunto tradimento sia reale. Oppure se no forse, se vorranno, saranno i diretti interessati a dare delle spiegazioni ai propri fan. Luca Salatino e Soraya, la loro luv story La luv story tra Luca Salatino e Soraya è nata in televisione più precisamente a uomini e donne. Il percorso di lui era iniziato come corteggiatore, poi era diventato tronista e aveva scelto Soraya. Un amore sbocciato sotto gli occhi attenti delle telecamere e poi proseguito. Salatino è stato anche uno degli ultimi concorrenti del grande fratello Vip. È stato nella casa per 99 giorni fino a quando non ha deciso di abbandonare il reality e riebracciare la fidanzata. I due sono stati ospiti insieme di Verissimo, per la puntata del 7 gennaio 2023. E ospiti di Silvia Toffanin avevano raccontato il loro grande amore, ormai giunto al capolinea. All'epoca stavano insieme da sette mesi e Luca Salatino aveva detto, sono perdutamente innamorato penso che questa è la cosa più bella che mi potesse accadere. Nella stessa situazione l'aveva presentata come il suo amore Soraya. Parole importanti da parte di entrambi. Frasi che erano lo specchio di un sentimento profondo. Ora giunto alla parola fine. Sul perché non resta che attendere che i diretti interessati decidano, o meno, di dare le spiegazioni ai propri follower.